Due diademi neoclassici probabilmente appartenuti all'imperatrice francese Giuseppina Bonaparte, prima moglie di Napoleone, sono stati venduti questo martedì per quasi 678 mila euro in un'asta di Sotheby's a Londra. Esposti finora al Victoria Albert Museum di Londra, per almeno 150 anni i diademi sono stati proprietà di una collezione privata. Si tratta di intagli della migliore qualità, spiega un esperto di gioielli di Sotheby's, che crediamo siano stati posseduti dall'imperatrice Giuseppina, realizzati da un gioielliere di Parigi nel 1805 circa, il loro stile molto evocativo dell'epoca neoclassica. Secondo una ricostruzione fatta dagli esperti, i gioielli sono stati con tutta probabilità regalati a Giuseppina, nata de Beornet, dalla sorella di Napoleone, moglie di Joachim Murat, Caroline. Una parure simile si trova nella collezione della famiglia reale svedese, ereditata dal figlio di Giuseppina, la cui figlia nel 1823 sposò il futuro re Oscar.